Presidente Chiodi, una settimana serena per l'Aquila dopo la riduzione della penalizzazione. Innanzitutto partiamo da qui. Come ha preso questa riduzione in classifica? Senza dubbio, con entusiasmo, siamo contenti. In fin dei conti siamo tornati fuori dai play-out, quindi questo ci comporta di stare un po' più sereni. Non tantissimo, perché siamo sulle due punti, quindi basterebbe poco per tornarci. In questo caso poi si riva nel baratro, quindi adesso dobbiamo essere tutti attenti. I ragazzi, come ho già detto, non possono avere più giustificazioni. Io capisco loro, capisco il momento che c'è stato, quel periodo brutto, quando pensavamo tutti che il campionato fosse finito, quando ci hanno detto che 31 punti di penalizzazione, mi è sembrato veramente, ci è sprofondato il mondo sotto i piedi. A questo punto loro chiaramente hanno accusato il colpo, non hanno avuto più quell'entusiasmo, più quella... Io ho visto la partita con la Pistoiesa, insomma, era proprio a ridosso di quelle notizie. Tutto questo è stato sicuramente non al nostro vantaggio. Loro hanno chiesto a noi chiarimenti, se tutto questo fosse realtà, oppure magari era immaginazione. Noi abbiamo dovuto dire quello che erano le realtà. In effetti la penalizzazione era in corso, sia sotto l'aspetto economico che su quello dei punti. Però poi a questo punto, con i vari ricorsi e tutto il resto, insomma, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo importante. Sei punti, insomma, non ci accontentiamo ancora perché... Così andrà al CONI, questo volevo chiedere, infatti. Accontentarci significherebbe come ammettere la responsabilità. Noi non siamo responsabili di nulla, quindi dobbiamo dimostrarlo fino alla fine. Poi ben venga se magari ci verrà colto e male se non ci verrà colto. Però noi andremo fino alla fine. Questo penso che sia anche il presupposto che portano avanti i nostri avvocati.